Presentata una proposta di adeguamento e di ampliamento del Parco Fabiana Luzzi di Via Provinciale a Corigliano Rossano nasce da un'idea dell'associazione Mondiversi Onulus Centro Antiviolenza Fabiana in sinergia con la famiglia Luzzi Ferraro e l'ingegnere Nilo Domanico. Il progetto è stato protocollato al Comune nei giorni scorsi. Il nostro parco si è andato attraverso una caverna cosmica fatta da querce che si uniscono al centro, si congiungono ad Arco per poi arrivare a una foresta di cedri del Libano che illustrano i pilastri delle cattedrali che si elevano verso l'alto. Il labirinto è rappresentato da un doppio infinito, un doppio infinito terra-acqua, quindi terra e acqua che si intersecano. Ai bordi c'è il giardino segreto dove ci si può perdere per poter incontrare, si spera anche almeno a livello spirituale, l'anima di Fabiana. La proposta vuole dare senso e significato alla intitolazione del parco a Fabiana, la giovane coriglianese vittima di femminicidio nel 2013. Il parco è stato concepito come atto di rinascita e di riscatto, da una morte tragica e segno di contrasto alla violenza sulle donne attraverso la bellezza, la vita, la proiezione verso l'infinito. Dopo che il Comune ha adottato il progetto, certo si apre la fase della ricerca dei finanziamenti. Noi pensiamo che al Comune questo non debba costare nulla e riteniamo che si possa attingere a diverse forme di finanziamento per la sua realizzazione.